La giunta comunale di Fano ha approvato il progetto definitivo del piano asfalti. L'intento è quello di pubblicare la gara di appalto entro la fine dell'anno per aprire i cantieri nella primavera del 2022. Lo ha annunciato questa mattina l'assessore alla viabilità Fabiola Tonelli che ha illustrato l'intervento da 3 milioni 700 mila euro, risorse che arrivano dal bilancio comunale. Saranno interventi massicci e massivi in tantissime zone della città. Andremo a dare una risposta a tutte le istanze dei cittadini che in questo periodo ci hanno contattato per delle criticità in molti quartieri anche e soprattutto nelle zone periferiche. Andremo a intervenire in maniera omogenea in alcuni quartieri, faccio l'esempio di Ponte Sasso, continueremo le asfaltature qui a Sant'Orso nella zona vecchia di Sant'Orso e ci sposteremo anche nella zona di Montegiove del Prelato. Ci inconcentreremo nei mesi più caldi, quindi da primavera fino alla fine dell'estate, cercando di fare tutti questi interventi nel più breve tempo possibile. Chiederemo alla dita di dare meno problemi alla viabilità, sempre mettendo al primo posto la sicurezza stradale. Quindi questi interventi daranno una risposta a tutti i veicoli, automobilisti, ciclisti, che in questo momento in alcune zone ci sono molte difficoltà a percorrere. Infatti alcuni lavori erano attesi da tempo, ha precisato l'assessore, e riguardano 53 vie per un totale di 31 chilometri lineari. Soprattutto nella zona periferica, appunto, per dare una risposta in queste zone dove ci sono alcune criticità, ma anche alcune nella zona più turistica, come per esempio a Lido, nei controviale Cairoli, piuttosto che alcune vie nella zona turistica di Ponte Sasso.